Sempre collega Provenzano dice che l'interesse dell'Europa in tema di immigrazione è distribuire migranti. E vabbè, ma su questo non siamo d'accordo. Io penso che gli interessi degli europei e dei cittadini, degli stati membri dell'Unione Europea stiano dove decidono i cittadini europei, quello che i cittadini di quegli stati membri. Quello che i cittadini italiani ci hanno chiesto di fare con il loro voto non è redistribuire migranti illegali che arrivano in Europa, è impedire le partenze degli immigranti illegali che arrivano in Europa. E poiché io credo nella democrazia è esattamente quello che lavoro per realizzare. E sono molto fiera del fatto che oggi il lavoro sulla dimensione esterna, come dimostra la missione in Egitto, come dimostra il mucco alla Tunisia, come dimostra l'ultima lettera inviata da Ursula von der Leyen, come dimostra tutto il lavoro che stiamo facendo, oggi la posizione italiana sia diventata la posizione europea. Piaccia o non piaccia quella posizione, so che non la condividete, ma la condivide la maggioranza degli italiani e quella che porteremo avanti, l'Italia oggi sul tema migratorio è riuscita a, diciamo, non voglio dire ovviamente imporre, ma insomma è riuscita a convincere sulla sua posizione i propri partner. Significa che se volessimo mutuare a quello che accadeva prima, la vostra posizione era redistribuiamo i migranti, non siete riusciti a redistribuire i migranti. Noi vogliamo lavorare sulla dimensione esterna, stiamo riuscendo a lavorare sulla dimensione esterna. Questo fa la differenza su quanto conta l'Italia in Europa. Grazie.